Allora, guagliarullo, sotto il televisore mi deve formare una bella fila di film pornografici di quelli sforchi, va bene? I preservativi invece me li devi spargere a semina, proprio come fosse pioggia, dovunque. Il viagra, un poco in cucina e un poco nel bagno. E i tanga? Uno sul bidet e uno sotto il cuscino. Ah, bisogna cambiare lo sfondo del computer. Mi piace. Al posto dei due petti rossi mi ci mette due petti grossi. Petti rossi? No, questi? Invece ci mette petti grossi. E una battuta, guagliarullo, non sei napoletano. Che è stato? Che è? Niente. Come si è fermato il cuore, come niente? Sì, me lo dice sempre lei a me. Sto, ti sembro con l'occhio. Questo so io, a così curto. Si limiti a fare l'imitazione di mia moglie. La confidenza. Augusto, stai sempre con gli occhi ben aperti. E il timbro che è identico, fa impressione. Ma se... Non vengono meglio i personaggi femminili? Come mai?